It's a kind of magic It's a kind of magic It's a kind of magic Con Vincenzo Silvestri dopo la partita della gara FPC Gravino a Nuova Molfetta Vincenzo oggi era importante ricordare la persona di Stefano Vicino una persona molto importante all'interno di questa società e anche per te che l'hai potuto conoscere in quest'anno a Gravino Assolutamente, era doveroso da parte nostra dimostrare l'attaccamento come un signore, devo dire, come Mister Vicino ha fatto e creato nella cittadina di Gravino quindi era, ripeto, doveroso da parte nostra dimostrare l'attaccamento e la disponibilità a realizzare quello che era il sogno di Mister Vicino Hai sbloccato la gara con l'ennesimo gol su punizione e poi hai voluto esultare andando lì dove la società aveva messo questo striscione in onore di Mister Vicino Penso sia stato il minimo Oggi non eravamo in undici in campo oggi eravamo in duemila perché sentivamo la vicinanza da parte di tutti la vicinanza del Mister che ci ha lasciato pochi giorni fa quindi era doveroso dare e rendere omaggio a una persona del genere Tornando alla partita, oggi Gravino ha compatto come al solito è riuscito a portare a casa la vittoria continua questa striscia di vittoria consecutiva la quindicesima in campionato continua il sogno del Gravino? Adesso inizia la fase dove dobbiamo dare il massimo questa è una fase delicatissima del campionato dove chi si deve salvare moltiplicherà e triplicherà le forze chi spererà di raggiungere una posizione nei play-off triplicherà le forze e noi d'altronde non possiamo mollare un attimo perché abbiamo anche la competizione della Coppa Italia Grazie 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 Grazie